Buongiorno e buon venerdì. Allora pollicione, se volete iscrivervi vi ringrazio, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono, commentano e sostengono questo canale e ci aiutano a far crescere questo e il secondo canale. Devo fare un ringraziamento speciale a Bobby che mi ha avvisato di una situazione particolare e ci ha permesso anche di fare un po' di verifiche sul fatto che il problema sia effettivamente abbastanza grande. Stanno fioccando in merito all'Adi un sacco di sospensioni e revoche. Sospensioni e revoche di cui non si capisce la motivazione. Io avevo paura che succedesse qualcosa nel mese di agosto proprio perché i CAF sono chiusi, l'Inps e gli assistenti sociali sono in turnazione per le ferie e quindi c'è poco personale. Però qui veramente ci sono sospensioni che non sono motivate perché se uno ha fatto domanda avendo i requisiti dell'età un accertamento in merito all'invalidità è totalmente inutile perché il requisito, basta il requisito dell'età, non serve il requisito dell'invalidità, non c'entrano niente, non è che devono coesistere i due requisiti, ne basta uno. Se hai quello dell'età basta. Eppure stanno arrivando sospensioni relative a questo, stanno arrivando sospensioni relative a difformità o verifiche relative alle condizioni di svantaggio. Le norme sulla condizione di svantaggio l'hanno pasticciata così tanto che non si capisce più dove è la testa e dove è la coda. E la cosa peggiore sono le revoche. Revoche perché i dati non sono corrispondenti o le comunicazioni risultano falsate, non errate, falsate. Che è una cosa un po' più seria perché l'errore è una cosa che può capitare, ma dire che qualcuno ha falsato le documentazioni vuol dire che c'è un dolo dietro. E oppure appunto si è scritto comunicazione errata. Ora nel caso delle revoche si hanno 30 giorni per fare opposizione. Ma cosa succede? Siamo al 9 agosto. Ora prima che i CAF si riavvino saremo già a settembre. Quindi i giorni per fare opposizione non sono più 30. Saranno 9 o 10 giorni. Se poi addirittura fa fede il giorno della comunicazione che, anche qui, l'Inps indica l'invio di mail che avvisano della situazione, fattualmente sembra che non l'abbia ricevuta nessuno. Comunque dicevo, se fanno fede al giorno in cui loro dicono di aver avvisato, la situazione è peggiore ancora perché magari il giorno è 2, 3, 4 agosto. E quindi i giorni disponibili sono ancora meno. Quindi come fa una persona a fare opposizione se praticamente il mese di agosto lo salti a pie pari e devi aspettare settembre, quando hai pochissimi giorni comunque per preparare il ricorso avverso alla revoca. Con i CAF che avranno appena ricominciato. Sulle sospensioni poi lo sapete, le sospensioni sono un kill-the-sack. Se vi trovate da domani in sospensione rimanete bloccati lì finché non finisce l'accertamento. Accertamento che può metterci anche mesi. E intanto la gente cosa fa? Sta ad aspettare la luna? Prega ad avere fortuna? La prossima settimana ci saranno le lavorazioni di metà mese. Vedremo quante domande sospese passeranno ad accolta. E vedremo quante persone che hanno fatto domanda per l'ADI riceveranno l'esito. Ma non è una situazione normale questa qui. Possibile che questi accertamenti, queste verifiche, arrivino tutte proprio nel mese sbagliato, cioè in agosto, quando fattualmente non si può agire subito contro, perché, come vi ho detto, i CAF e i patronati sono chiusi? Sembra quasi una cosa scelta apposta per far decadere un sacco di domande e impedire il ricorso avverso alla revoca. Vedremo, i sospesi rimangono bloccati di così, ma essendoci anche meno personale nell'Inps, chissà quando faranno le verifiche. Così si sposta sempre in avanti la sticella. A questo si aggiunge il fatto che stiano tagliando gli adeguamenti delle pensioni, cioè stiano scomparendo gli adeguamenti sia delle pensioni di invalidità parziale, che è un adeguamento ridicolo, che sono 8-9 euro, stiano sparendo anche gli adeguamenti delle pensioni di invalidità totale. E le spiegazioni non le danno, non ci sono. E anche qui, se andate all'ufficio Inps, dovete sperare di poter trovare un ufficio abbastanza grande che prenda appuntamenti perché ha il personale che ruota dentro, perché se l'ufficio è piccolo non li prende, e quindi si slitta tutto quanto in avanti. E slittando in avanti si andrà a cavallo proprio di un momento in cui le persone che hanno ricevuto l'avviso attraverso un mail o raccomandata, dovrebbe essere raccomandata, comunque in merito alla presentazione dei documenti per evitare prima di tutto i tagli, cioè il 5% in meno della pensione, e poi letteralmente la cancellazione della pensione dovranno fare le pratiche. Hanno tempo fino al 15 settembre. E cosa succede? In pratica hanno 15 giorni neanche per fare le pratiche. Se hanno ricevuto l'avviso dell'Inps che manca la documentazione, per questo vi dico usate questo tempo per preparare tutto quello che vi serve, tutte le carte, tutta la documentazione ricevuta, tutto quello che serve. In modo da arrivare lì e cercare di fare tutto in un colpo solo. Perché se è cominciato a dover andare avanti e indietro non è uscite sani, ve lo dico. Però sembra tutto... Non si può lavorare in queste condizioni, non si possono fare le cose in queste condizioni. In un momento in cui si sa benissimo che le persone non hanno la possibilità di porre rimedio al danno immediatamente, ma devono aspettare che arrivi la fine del mese. non può funzionare così un sistema. Se a questo si aggiunge, appunto, ve l'ho detto, le parole di Giorgetti, manovra lacrime e sangue perché non ci sono soldi in cassa, alcolatevi, 14 miliardi per fare un ponte inutile li trovano, eh. Lì i soldi da buttare nel cesso li hanno trovati. Per fare contento un tizio che passa, invece di stare al ministero a fare il suo lavoro, passa il tempo nelle sangre perché si deve riempire. Perché poverino, è talmente sottile, eh. Tra un po' fai prima a saltarlo che a girargli intorno. Sto stordito, ma chi se ne frega. Però, per situazioni di questo tipo, i soldi non ci sono mai. E vedrete che la prossima manovra di bilancio beccheranno, ancora una volta, pensioni, sanità e scuola. Tanto quando non sanno dove andare a prenderli, li vanno a prendere sempre lì. Non cambia niente in questo senso. Tutte le manovre si va sempre a pescare lì. Quindi, non lo so, controllate in questi giorni, in modo costante, controllate, controllate, sia appunto chi aspetta l'esito, senza aspettare proprio il giorno delle lavorazioni, ma anche chi, tecnicamente, prenderà la sua ricarica a fine mese. Tra l'altro, poi chiudo, la lavorazione di fine mese probabilmente potrebbe essere anticipata un bel po' rispetto al 27, perché il 27 è un martedì, o le fanno il lunedì per il martedì, cosa possibile, ma poi vedrete che se fanno così è capace che i posti italiani paghi il 28, tanto, ormai, che gli frega loro. Oppure le facciano il 23, che è un venerdì, per il 27, o per il 26, perché, attualmente, fino ad oggi, IMS non ha rispettato una sola volta le date indicate nel suo calendario, hanno sempre detto una cosa e poi ne hanno fatta un'altra. Tanto, ve l'ho detto, che gli frega loro. Quando uno è a posto di suo, non gli interessa cosa succede agli altri. La cosa che mi preoccupa è che, veramente, chi sta facendo i controlli, questi controlli sono effettuati manualmente. Dal livello di preparazione, sembra che a fare il controllo abbiano messo delle scimmie bonobo particolarmente ciocchite, quando servirebbero dei professionisti seri, perché se ti viene dato l'ADI, per l'età, cazzo se ne frega degli altri parametri. Cioè, è inutile sospenderglielo perché dobbiamo verificare l'invalidità, perché comunque, te l'è andata per l'età. Quindi, cosa c'entrano? Se hai il parametro già funzionante, è inutile andare a cercare l'altro. Ma siccome io sono uno che pensa male, a pensare male si fa peccato, ma più delle volte si indovina, queste qui sembrano cose fatte, perché, diciamo così, questi non hanno le pezze al culo e non sanno da che parte trovare. E allora, tanto per cambiare, invece di aspettare dicembre, bastonare le classiche categorie, cominciano adesso. Tenetemi informato, avvisatemi se vedete cambiamenti, in positivo o in negativo, però, ecco, ho preferito avvisarvi di questa situazione. Ciao a tutti!